al verso 20. Luca 4, dal verso 14 fino al verso 20. Glorie al Signore. L'Evangelo di Luca, capitolo 4, dal verso 14 fino al verso 20. A Dio vada la gloria. Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne tornò in Galilea e la sua fama si sparse per tutta la regione e insegnava nelle loro sinagoge glorificato da tutti. Si recò a Nazareth, dove era stato allevato e, come era solito, entrò in giorno di sabato nella sinagoga. Alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto «Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore». Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si mise a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Amen. Fin qui la lettura della parola di Dio. Vogliamo chiudere gli occhi e pregare il Signore. Caro Padre Celeste, ti vogliamo ringraziare con tutto il cuore per come possiamo leggere la tua parola insieme, ma grazie soprattutto perché questa parola vuole diventare vita in ognuno di noi e ti preghiamo che questo accada stasera mediante l'unzione del tuo Santo Spirito, affinché ognuno di noi torna a casa cibato da te, oh Signore, e saziato nell'anima. Dacci anche un cuore aperto, una mente libera, affinché possiamo essere ricettivi verso la tua parola e le possiamo accogliere nel nostro di cuore per quello che essa è, parola tua, te lo chiediamo nel nome di Gesù tuo figlio che è con te, benedetto in eterno. Amen. State comodi cari, gloria a Dio. Passo noto in cui Gesù, come era solito, abbiamo letto al verso 16, nel giorno di sabato entra nella sinagoga. Perché Gesù, fatemi un po' traslare i tempi e adattare ad oggi le espressioni, Gesù era solito andare al culto, perché quello che veniva celebrato nella sinagoga il giorno di sabato è, anche se in modo diverso naturalmente, quello che noi celebriamo la domenica, cioè il culto al Signore. Certo lì c'era solo la legge, lì c'era solo l'Antico Testamento, certo lì si seguivano tutti i rituali ebraici, mentre noi oggi siamo sotto la grazia, non più sotto la legge. Abbiamo non solo l'Antico, ma anche il Nuovo Testamento. Non ci sono più i rituali che facevano gli ebrei, abbiamo il culto che offriamo al Signore secondo l'insegnamento del Nuovo Testamento, quello apostolico che ci troviamo nella Bibbia, ma in termini tecnici di questo si trattava, era un culto che veniva celebrato alla gloria di Dio. E in questo passo c'è un'espressione molto bella al verso 20 che è un po' quello che ci dà un principio base che noi dovremmo seguire ogni qualvolta veniamo al culto. Infatti abbiamo letto verso 20 che, chiuso il libro, resolo all'inserviente, si mise a sedere, sta parlando di Gesù e qui è l'espressione, gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. E io penso che quando celebriamo il culto al Signore, nel locale di culto, non più nella sinagoga, gli occhi di tutti, quelli che siamo presenti, devono essere fissi su Gesù. E questo è il segreto di un culto benedetto. Non ci sono alchimie particolari, non ci sono ricette che si possono trovare da qualche parte su internet per poter avere un culto benedetto. Il segreto è quello di fissare lo sguardo su Gesù. Naturalmente non stiamo parlando di questi occhi, ma parliamo degli occhi della fede, del cuore, perché oggi Gesù non è più in carne ed ossa in mezzo a noi, egli è in spirito in mezzo a noi. Stasera è qui presente perché lo stiamo celebrando e dove si parla di lui Gesù c'è, dove ci sono persone riunite nel suo nome Gesù c'è e Gesù stasera è qui in mezzo a noi. E noi vogliamo fissare il nostro sguardo su di lui. Noi siamo grati a Dio per i locali di culto che abbiamo, perché grazie a Dio sono dei locali semplici, sì, ma sono dei bei locali, perché sono dei locali consacrati al Signore. Ci potrebbero essere, ci sarà sicuramente una cattedrale migliore in questo paese, un luogo dove ci sono decorazioni più particolareggiate, ma gloria a Dio questo locale migliore, ma non perché sia artisticamente più pregevole, ma perché c'è la presenza di Dio. E noi vogliamo concentrarci non sul locale dove ci troviamo, ma su Gesù che è in mezzo a noi. Certamente ci sono assemblee più numerose in questo momento che si stanno adunando per celebrare il nome del Signore, ma se ci dovessimo trovare in quelle assemblee o se ci troviamo in questa assemblea, noi non dobbiamo concentrarci su chi c'è o su chi magari non c'è. In questo momento dobbiamo concentrarci su colui per il quale siamo venuti, vale a dire dobbiamo fissare lo sguardo su Gesù. Si sono sicuramente in questo momento dei luoghi dove ci sono musiche molto più accattivanti di quelle che possiamo cantare noi con i nostri semplici canti. E probabilmente ci sono anche canti cristiani che in questo momento si stanno elevando, accompagnati da diversi strumenti e forse anche da corale. E gloria a Dio per questo, perché il canto ha una grande valore nel culto cristiano. Guardate l'Antico, guardate il Nuovo Testamento. Spesso le opere di Dio sono accompagnate o precedute dal canto dei credenti, ma colui che compie le opere non è il canto, non è la musica, ma colui che compie l'opera è il Signore e quindi il nostro sguardo deve essere fisso non su chi suona, non su chi canta, ma su Cristo Gesù, esattamente come in quel giorno. In questo momento ci sono tanti predicatori probabilmente che stanno annunziando l'Evangelo e gloria a Dio per questo, perché quando l'Evangelo sarà annunziato ad ogni creatura, allora il Signore tornerà. E quindi più ci sono persone che annunzino l'Evangelo, meglio è. Ma chiunque ci sia ad annunziare l'Evangelo, il nostro sguardo non deve essere fissato sul messaggero, ma sul messaggio, sulla parola di Dio, perché Cristo Gesù è la parola di Dio. E noi stasera questo vogliamo fare. Vogliamo fissare, come avvenne in quel giorno di duemila anni fa, nella sinagoga di Nazareth, lo sguardo su Gesù. Perché quando guardiamo a Lui, nella nostra vita avviene qualcosa di bello, ci illuminiamo. Perché? Perché ne abbiamo bisogno e perché Gesù, come sappiamo, venne presentato da Giovanni come la vera luce che illumina ogni uomo. C'è buio intorno a noi, lo sappiamo. E delle volte anche nel nostro cuore, perché negarlo. Ci sono situazioni della vita che ci portano un attimino a spegnere la lampada della speranza. E delle volte ci troviamo anche noi un po' disperati, un po' frastornati, perdiamo un po' l'abusso, l'orientamento, ci facciamo mille domande. Perché? 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 Poi guardiamo a Gesù. E tutta quella foschia, tutto quel buio, tutta quella penombra, sparisce. Perché Gesù è la luce che illumina ogni uomo. E stasera quella luce vuole illuminare pure te. Vuole mandare via le tenebre, vuole mandare via la penombra, vuole mettere luce nel tuo cuore. E quanto è bella la luce. Se c'è una cosa da cui siamo attratti è proprio la luce. Perché è qualcosa che ci rischiara. La prima cosa che leggiamo nella creazione è proprio questo, la luce. Dio disse sia la luce. E Gesù è venuto proprio per mettere luce nel cuore delle persone e la mette in quei cuori che sono fissi su Gesù. Come in quel giorno, duemila anni fa, stasera, fissa lo sguardo su Gesù. Lascia perdere le persone intorno a te, lascia perdere le decorazioni del locale di culto, lascia perdere tutto, fissa lo sguardo su Gesù. E quando fissiamo lo sguardo su Gesù, allora la prima cosa che vediamo è innanzitutto la sua sacrificio compiuto sul Calvario duemila anni fa. E quel sacrificio è così bello, così meraviglioso, ci testimonia di un così grande amore che noi non possiamo fare a meno di continuare a guardare a quel sacrificio. Oh, fratelli, sorelle, siete tutti delle brave persone, io forse un po' meno. Ma chi sarebbe morto per voi per potervi procurare salvezza? Siete brave persone, ma nessuno sarebbe morto per voi. Gesù lo ha fatto. E a maggior ragione nessuno sarebbe morto per me, ma Gesù lo ha fatto. E io quando penso a questo dico, Signore, veramente il tuo amore è inconcepibile. Non c'è un modo per spiegarlo, non c'è un modo per capirlo, perché come puoi aver amato me? Già oggi che tu mi hai salvato, che l'opera della grazia è iniziata e che la tua parola ha cominciato a trasformare il mio cuore, già oggi mi guardo e dico, Signore, ma come fai ad amarmi? Con tutti i miei difetti, con tutte le mie cadute, con tutte le mie fragilità. Ma la cosa più straordinaria è che Dio non ha cominciato ad amarmi nel giorno in cui ho detto vieni nel mio cuore. Lui già mi amava prima, anzi mi ha cercato e mi ha cercato con insistenza, ha bussato tante volte alla porta del mio cuore. Oh Signore, quanto è mirabile il tuo amore! Sapete perché tante persone si allontanano dalla grazia di Dio? Perché perdono di vista la cosa più straordinaria che c'è stata nella storia dell'umanità, la croce di Cristo. Cominciano a distrarsi, a guardarsi intorno, ma caro fratello, cara sorella, giovane o anziano, chiunque tu sia, guarda il Signore, fissa lo sguardo su Gesù, guarda quell'amore che viene manifestato sulla croce, sarebbe potuto scendere da quella croce, avrebbe potuto chiamare gli angeli per liberarlo affinché non fosse arrestato, o avrebbe potuto fare tutto quello che voleva e nessuno gli avrebbe potuto dire niente perché lui era giusto. Ma quando nel Getsemane disse, padre, se è possibile, allontana da me questo calice, ed evidentemente in cuor suo sentì che non era possibile, aggiunse, non la mia padre, ma la tua volontà sia fatta, se devo andare io vado, e andò, ed è morto. Fissiamo lo sguardo sul Calvario, non si tratta di una rappresentazione scenografica, non si tratta di andare a vedere un film che parla della morte di Gesù, lo volete andare a vedere, vedetelo, non è questo il problema, ma ciò che cambia la nostra vita è quando col cuore consideriamo il grande amore che Gesù ha avuto per noi, dando la sua vita per la nostra salvezza. Lo guardavano, lo fissavano, aspettavano che lui parlasse, perché quando fissiamo lo sguardo sul Gesù, allora nella nostra vita avviene qualcosa di straordinario e innanzitutto per fissare lo sguardo su Gesù che è lì sulla croce, noi dobbiamo alzare il nostro sguardo, perché Gesù non è qualcuno che è rimasto su questa terra, prima è salito su quella croce, poi dopo essere risorto è salito alla destra del padre, e noi siamo chiamati, cari miei, ad alzare lo sguardo se vogliamo fissare Gesù. Troppe persone sono attratte dalle cose di questa terra, per questo non riescono a vedere Gesù, a fissare lo sguardo su Gesù e si perdono, perché guardano solo alle cose di questa terra. Ora sia chiaro, noi viviamo su questa terra, dobbiamo lavorare, ci dobbiamo programmare il lavoro, dobbiamo occuparci del nostro presente e anche del nostro futuro, sempre rimettendo ogni cosa nelle mani di Dio, ma attenzione la nostra vita non può essere solo questo, o mi sbaglio? Possiamo solo pensare alle cose di questa terra, su questa terra tutto passa, noi per primi, ma non solo noi, ma c'è qualcosa di più importante, di più grande, di più straordinario e questa è la vita eterna, perciò fissiamo lo sguardo su Gesù e ripeto per farlo dobbiamo alzare, alzare lo sguardo, cominciare a guardare un po' più in alto, perché ci sono cose più straordinarie di quelle che i nostri occhi vedono, ci sono cose ancora più gloriose e guardate che l'autore dell'Apocalisse, che è Giovanni, come sapete, nella sua esperienza che viene raccontata proprio nell'Apocalisse, fa un po' questo tipo di percorso. Lui prima guarda al livello della terra e così vede le sette chiese a cui è chiamato a indirizzare sette epistole. E cosa vede quando guarda al livello della terra? Chi ha perso il primo amore? Chi accetta la dottrina dei Nicolaiti? Chi accetta Izebel, quella profetessa che travia i credenti? Chi si dice che sia vivo, ha fama di essere vivo e invece è morto? Chi è tiepido? Oh, quante cose brutte, è vera. Ma poi dice al capitolo 4, e non vorrei ricordarlo in modo sbagliato e quindi lo prendo e ve lo leggo, al capitolo 4 dell'Apocalisse, dopo queste cose, vidi una porta nel cielo e io alzai lo sguardo e vidi un trono. Quando noi alziamo lo sguardo per vedere Gesù, dapprima lo vediamo lì, crocifisso, ma poi se ci riflettiamo ci accorgiamo che oltre all'agnello di Dio c'è il leone della tribù di Giuda. Oltre all'uomo morente c'è colui che è vivente nei secoli dei secoli e che siede alla destra del padre e che presto verrà per giudicare i vivi e i morti. Quando alzi lo sguardo tu realizzi che c'è un Gesù che non è affisso più a una croce ma che vive per l'eternità e mentre le religioni di questo mondo lo rappresentano sempre così, capochino, occhi chiusi, come si dice inchiodato su un legno, mani e piedi, Gesù non è così. Chi alza lo sguardo Gesù non lo vede così. Vi ricordate cosa disse Stefano mentre alzava lo sguardo io vedo i cieli aperti, vedo pure Gesù. Come lo vedeva Gesù? Lo vedeva inchiodato a una croce? Lo vedeva col costato sanguinante? Lo vedeva con gli occhi chiusi, morto? No, no, io lo vedo in piedi, altro che su una croce. Lo vedo in piedi alla destra di Dio e lo vedo lì che mi sta aspettando per accogliermi nella sua gloria. Quando fissiamo lo sguardo su Gesù noi vediamo colui che è vivente, colui che vive per intercedere per noi giorno e notte. Vediamo colui che è pronto a stendere la sua mano, altro che mano inchiodata. La mano di Gesù è qui in mezzo a noi, che è pronta a toccare la vita di qualcuno di noi. Lo vediamo camminare, altro che Gesù lì con quei piedi inchiodati sul legno. Egli è qui presente, gira in mezzo ai nostri banchi, il suo sguardo guarda i nostri cuori per vedere chi possa battezzare, chi possa benedire, chi possa consolare. Quando guardiamo a Gesù avvengono cose meravigliose ed ecco perché Satana in tutti i modi cerca di farci distrarre e quando veniamo in chiesa cerca di farci guardare a tante cose tranne che a Gesù. Ti vuole far vedere quanti mancano. Oh quello manca, quell'altro manca, gloria a Dio c'è Gesù. Siamo più di due o tre, ma se anche stasera fossimo due o tre. La cosa più importante è che qui in mezzo a noi c'è Gesù e quando c'è Gesù abbiamo tutto. Noi potremmo essere diecimila persone riunite in questo momento. Se non ci fosse Gesù non servirebbe a niente. Guardate le grandi manifestazioni che si svolgono delle volte anche nel nome di Dio dove c'è tanto rumore, tanto chiasso, ma siccome non c'è la predicazione del Vangelo, non c'è la glorificazione di Cristo, Dio non è lì presente. Cosa avviene? Vanno, saltano, ballano, fanno tante cose, ma poi il cuore com'è? Senza nulla, senza nulla. Due settimane prima riconoscere la grazia di Dio, di accettare Gesù nella mia vita. Frequentavo già una comunità evangelica, ma la frequentavo per curiosità, ma anche perché era attratto dalla parola di Dio. Era all'università insieme a quei ragazzi che abitavano con me decidemmo di andare a Taormina, o meglio, ad andare a Giardini Naxos per andare in discoteca. Eravamo ragazzi, pensavamo che quello fosse il divertimento, fossero le cose che rendono la vita gioiosa e allegra. E ci siamo andati. Abbiamo trascorso un'intera notte, poi la mattina verso le sei abbiamo preso il trenino che tornava da Giardini a Messina. Vi posso dire una cosa? Io sono tornato a casa con un cuore vuoto. Mi sono divertito quella notte, ma è passato. Sei ore saranno state, ma poi finito tutto. Due settimane dopo sono andato in chiesa, era domenica, e alla fine del culto ci fu un appello affinché si pregasse per chi desiderava ricevere la salvezza. Io passai avanti a quell'appello. Il Signore mi ha salvato perché ho confessato i miei peccati. È iniziata una gioia che non è durata sei ore, neanche sei anni. Grazie a Dio sta durando dal 1989. Ho perso il conto degli anni. Ma quello che è importante è che è una gioia che non si esaurirà mai se io continuerò ad avere lo sguardo fisso su Gesù. Fissavano a Gesù. E mentre fissavano Gesù si aspettavano che lui certamente parlasse. E Gesù parlò e disse che quelle parole che aveva letto, e cioè lo Spirito del Signore sopra di me e mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai pigionieri e ai ciechi il recupero della vista e a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore, quelle parole si stavano adempiendo in lui. E infatti se voi andate a scorrere i Vangeli e leggete tutta la storia di Gesù da quel momento in poi, tre anni circa, un po' meno di ministerio, voi scoprirete che tutte quelle cose si sono adempiute in voi davvero. E sapete in chi si sono adempiute? In tutti quelli che hanno fissato lo sguardo su Gesù. Quando il centurione romano parlò del suo servo, a chi stava guardando? A Gesù. E gli disse, Signore, tu non c'è bisogno neanche che vieni a casa mia, se tu dici una parola, io so che il mio servo sarà guarito, hai questa fede, vai, il tuo servo è guarito. Sapete cosa succede? Che mentre il centurione torna a casa, arrivano dagli emissari della casa sua che gli dicono, oh centurione, il tuo servo è stato guarito. E la donna era flusso di sangue, a chi guardava? Aveva presso di mira Gesù, aveva però una folla davanti, ma lei disse, a me basta che tocco il lembo della veste del Signore. E io sono certo che sarò guarita. Lo fissava fino a quando riuscì ad arrivare a toccarlo e cosa avvenne? Venne guarita da un'emorragia che i medici da dodici anni, dopo avergli spillato tutti i soldi, non erano stati caprici di guarire. E quando Bartimeo, il cieco che si trovava sulla porta che si esce da Gerusalemme, sentì parlare, lui non lo poteva vedere perché era cieco, però sentì parlare di Gesù, su chi si fissò? Chiamò Pietro? O forse chiamò Giovanni? O magari chiamò Tommaso o qualcun altro? No, no, lui cominciò a gridare, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Tutte gli dicevano, silenzio, non si fa così, troppa cacciara. Ma quello che gli interessava, quello che più gridava, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E Gesù si fermò, fece chiamare Bartimeo e gli disse che vuoi che ti faccia? Signore, che io recuperi la vista. Fatto. E Bartimeo recuperò la vista. E potrei continuare con i miracoli all'infinito di Gesù. Perché? Perché si fissava lo sguardo su Gesù. Sapete qual è l'errore che delle volte commettiamo noi credenti? Quello commesso dai giudei, quando venne compiuto il primo miracolo da parte di Pietro e di Giovanni. Il Signore tramite di loro compì un'opera straordinaria. Un uomo che era zoppo cominciò a camminare e tutti quanti andarono da Pietro e da Giovanni e li guardavano. Ve ricordate cosa dissero Pietro e Giovanni? Perché guardate noi? Perché fissate noi? Ti posso fare questa domanda? Perché guardi l'uomo? Perché continui a guardare agli strumenti di cui Dio si serve anziché guardare a colui che compie le opere? Perché ti aspetti di ricevere qualcosa dall'uomo? Cosa può fare l'uomo per te? Cosa posso fare io? Cosa può fare un fratello che è qui presente o una sorella? Chi ti può aiutare? Perché fissi lo sguardo sugli uomini? Sappiate, disse Pietro, che se questo uomo ha recuperato pienamente la sua capacità di camminare non è per la mia potenza, non è perché noi siamo supereroi, ma perché c'è stata fede nel nome di Gesù. E quello che vi vogliamo dire è che voi lo sguardo lo dovete fissare su Gesù. Fratelli miei e sorelle mie, la nostra speranza ha solo un nome, si chiama Gesù. E se noi fissiamo lo sguardo su di lui, noi vedremo cose straordinarie. Ma fino a quando continueremo a fissare lo sguardo sugli uomini e ci lasceremo distrarre da tutto quello che accade intorno a noi, non possiamo aspettarci di vedere grandi cose. Perché i miracoli li compie il Signore, non li compie l'uomo. Loro fissarono lo sguardo su Gesù, Gesù cominciò a parlare e in quel giorno egli si rivelò per quello che era il Messia, il Salvatore del mondo. Per questo la scrittura dice, concludo, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea e rende perfetta la fede. Questo semplice messaggio è da duemila anni che viene predicato e nonostante sono passati duemila anni, ancora oggi porta salvezza nella vita delle persone. Perciò, fratelli e sorelle, stasera ora stiamo per pregare, fissiamo lo sguardo su Gesù, aspettiamoci da Lui qualcosa. Non aspettiamo che finisca il culto così ce ne andiamo, ma aspettiamoci di ricevere da Lui qualcosa. E il Signore benedirà la nostra vita, però fissiamo lo sguardo su Gesù, non guardiamo ad altro e noi vedremo la gloria di Dio. Richiudiamo gli occhi per piacere, chiniamo il nostro capo. Fratello Vita, per favore, ripremile. Gloria al Signore. Vogliamo pregare con tutto il nostro cuore, fissando lo sguardo su Gesù. In questo momento possa veramente il nostro cuore... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.